Per me no, perché così i ragazzi, le persone saranno sempre sedute a una sedia e là può venire anche il fatto dell'obesità, queste cose qua. Diventa uno sport ma diventa purtroppo una dipendenza per questi ragazzi di oggi e questa è una dipendenza, a tutti gli effetti diventa una malattia, quindi è una cosa come una droga. Secondo me assolutamente no, che sport è l'uso del videogioco? Non sono proprio d'accordo, assolutamente. Secondo me no, è sbagliatissimo, è sbagliatissimo perché adesso con i videogiocchi, i telefonini, i computer e tutte queste cose i ragazzi non hanno più uno svago vero e proprio. Praticamente i ragazzi devono vivere all'aperto ma giochi come giocavamo noi una volta. Noi abbiamo fatto una considerazione proprio con l'amico ieri mattina, noi siamo una generazione che giocava per strada e quindi siamo cresciuti in un certo modo. Oggi tutti questi accessori secondo me danneggiano la crescita dei ragazzi. Da un lato ci sono i medici che lanciano l'allarme contro la serendarietà che potrebbe aumentare a vista d'occhio, dall'altra gli addetti ai lavori che fanno notare come in Corea chi usa i videogiochi, fa anche sport e trove benessere fisico e mentale. E' polemica anche in città sulla decisione maturata dal CIO, Comitato Internazionale Olimpico, che riconosce videogiochi come disciplina agonistica. Di esports, competitivi e scritto nel comunicato del Comitato Internazionale Olimpico possono essere considerati un'attività sportiva. I giocatori coinvolti si preparano e allenano con intensità che può essere paragonata a quella degli attreti delle discipline tradizionali. Tanto è bastato per scatenare le prime reazioni da parte dei medici anche in città. Forse è un modo di comunicare al mondo che anche stare seduti sul divano equivale a fare sport. Una prevenzione è a contrario, fa notare il dottor Antonio Pacella, medico e nutrizionista. L'uso dei videogiochi riguarda in effetti anche gli stili di vita dei giovani. Se è vero che da un lato si sviluppano abilità mentali, l'attività fisica viene meno. Bisognerebbe specificare che si tratta di sport mentali, rimarca Aldo Mandolini, che di videogiochi se ne intende. Ci sono entremati giochi dove è fondamentale avere un'abilità psicofisica a livello di reattività, velocità di gioco. Un argomento che non è passato inosservato e aperto finalmente un dibattito costruttivo.